Ciao, ti do il benvenuto alla sessione formativa di Sports Science su dieta per aumentare la massa muscolare. Poiché questo è un argomento che fa parte della materia nutrizione funzionale, prima di iniziare introduco che cos'è nutrizione funzionale e che cosa studia. Nutrizione funzionale è la materia che si erige e struttura dall'interazione della nutrizione con l'allenamento, ne studia la loro fine e precipua modulazione per arrivare ad un risultato, un adattamento, il miglioramento della composizione corporea, dal quale tuttavia ne derivano ulteriori due conseguenze profittevoli, da una parte il miglioramento delle performance e dall'altra il miglioramento della salute. Per miglioramento della composizione corporea si intende il miglioramento del rapporto tra massa magra e massa grassa. Oggi, in questa sessione, si parlerà del miglioramento della composizione corporea relativamente all'aumento della massa muscolare, poiché il topic di questa sessione formativa è dieta per aumentare la massa muscolare. Prima di iniziare a disquisire, trattare e valiare gli apporti di nutrienti da un punto di vista quantitativo e qualitativo e le relative strategie nutrizionali che supportano il processo anabolico di crescita muscolare, è necessario illustrare innanzitutto chi è il responsabile ultimo finale dalla cui attivazione dipende l'attivazione delle sintesi proteiche stesse. Prendiamo in considerazione la slide in sovrimpressione. Al centro in basso vedrete riportata la sigla MTOR, è l'acronimo inglese di Mammalian target of rapamicin. Quando MTOR viene attivato, e tra poco vedremo chi lo attiva, fa contemporaneamente due cose. Da una parte, come vedete la freccia verso destra, attiva una proteina chinasi chiamata P70S6K. È un enzima che una volta attivato da MTOR, a sua volta attiva il ribosoma per iniziare le sintesi proteiche. Il ribosoma è una struttura macromolecolare presente all'interno del citoplasma cellulare che è deputata alla sintesi delle proteine. Ma quali proteine vengono sintetizzate da parte del ribosoma? Proteine strutturali, come ad esempio collagene e elastina, oppure proteine di trasporto, come ad esempio albumina o emoglobina, o ancora proteine regolative, come gli enzimi, oppure proteine di difesa, come gli agenti del sistema immunitario, o ancora proteine contrattili, come quelle che tornano utili al nostro discorso di tale sessione formativa, cioè actina e miosina? Non si sa. È necessario che al ribosoma arrivi una informazione che gli dica quali, quale tipo di proteina deve essere sintetizzata. Come detto, MTOR fa due cose insieme quantivato. Da una parte attiva la sintesi proteica sul ribosoma, ma guardate dall'altra che cosa fa, con la freccia che è direzionata a sinistra. Attiva un fattore di traduzione intracellulare che si chiama EIF4E. È l'acronimo inglese di Eukaryotic Translation Initiation Factor 4E. Cosa fa tale fattore di traduzione? Veicola l'RNA messaggero che contiene l'informazione genetica su quale tipo di proteina deve essere sintetizzata al ribosoma. Faccio un passo indietro. L'informazione genetica è custodita all'interno del nucleo nel DNA, come voi tutti sapete. Ma il DNA non può uscire dal nucleo per arrivare nel citoplasma e consegnare l'informazione genetica al ribosoma. Ecco che così a livello nucleare viene sintetizzato l'RNA messaggero che copia l'informazione utile dal DNA, l'RNA riesce a uscire dal nucleo, arriva nel citoplasma, arriva dal ribosoma e gli conferisce l'informazione sulle sintesi proteiche da portare avanti. Quindi per riassumere, in modo molto semplice, quando mTOR viene attivato, attiva meccanicamente le sintesi proteiche e conferisce l'informazione al ribosoma su quale tipo di proteina deve essere sintetizzata.